sui sentieri della storia visita in prima persona i luoghi della grande guerra accompagnati da esperti lungo percorsi storici tra trincee monumenti e camminamenti per immergersi nella realtà dell'epoca dei percorsi più classici come re di puglia dal monumentale sacrario militare al monte seibusi e alla dolina dei bersaglieri il monte san michele con il suo rinnovato museo e le cannoniere il parco tematico di monfalcone quelli meno conosciuti come il monte cosic o il monte ermada l'intera giornata da re di puglia a caporetto per rivivere le dodici battaglie dell'isonzo escursioni per ogni tipologia di visitatore dai singoli ai gruppi fino agli istituti scolastici servizio anche in lingua straniera su richiesta info e prenotazione pro loco foglianodipuglia.it o visita la nostra pagina facebook pro loco foglianodipuglia